cari ascoltatori e cari aspettatori oggi è una giornata diciamo così al punto di vista tecnico terribile ho appena provato a registrare una puntata su montale che praticamente si è persa nelle nebbie del web e probabilmente nessuno è riuscito ad ascoltare adeguatamente e proviamo almeno la prima puntata è interrotta ho avuto una riunione di emergenza sindacale ovviamente fatta a distanza vista la situazione adesso speriamo che almeno questa terza puntata possa avere il suo effetto regolare aspettando il giannizio nero podcast dedicato alla storia didattica e alla didattica ludica sto utilizzandolo per presentare le mie lezioni ai miei studenti di scuola superiore in questo caso stiamo esaminando attraverso il libro test di nicola zotti austerlitz la campagna napoleonica e libro test cosa significa che abbiamo un testo che descrive più o meno appunto l'andamento della campagna napoleonica di austerlitz e a un certo punto nei momenti focali l'autore nicola zotti grandissimo esperto di storia militare ciao loris ti prego dimmi che mi senti saluto loris perché la trasmissione è in diretta e anche se la maggior parte delle persone la sentono in registrata loris dammi un segno dicendo che finalmente mi si riesce a sentire perché oggi con la linea è terribile aspettando loris che si faccia sentire faccio finta che mi senta e quindi vi ricordo che se qualcuno è interessato a intervenire in diretta può venire sul mio canale speaker loris mi sente benissimo grazie a dio speriamo che non ci sia due senza tre oggi perché le prime due sono state due due situazioni terribili dal punto di vista tecnico quindi con la conferma di loris possiamo ricominciare il nostro esame della campagna di austerlitz mi sono interrotto se qualcuno vuole intervenire in diretta è il benvenuto basta che vada a vedere sul gruppo casus belli di facebook gruppo di una delle principali per non dire la principale associazione nazionale a livello di war game pubblico sempre lì un post in cui inserisco le puntate quando le farò e quando le registrerò in oggi e per quanto riguarda domani non so ancora quante e quali registrerò perché bisognerà probabilmente recuperare quelle saltate oggi comunque di base domani penso che alle 17 parlerò di montale e alle 17 45 andremo avanti con austerlitz però controllate sempre sul gruppo che mai non fa abbiamo perso i nostri primi tre minuti per le comunicazioni di servizio per vedere se qualcun altro doveva partecipare al test in diretta si fosse messo in collegamento e adesso possiamo partire allora nell'ultima puntata che poi la prima dedicata ad austerlitz abbiamo visto che si è formata la terza coalizione che ha scelto praticamente di impegnare napoleone un po in tutta europa ma soprattutto con un fronte principale sulla in germania attraverso in germania in austria poi a dirla tutta nell'attuale germania però comandato dal generale mack in attesa dell'arrivo dell'enorme esercito russo che sta marciando su tre colonne e bisognava decidere napoleone come napoleone doveva decidere come reagire doveva fu costretto ad abbandonare la progettata invasione via mare dell'inghilterra e aveva scelto come piano di risposta di puntare al centro dello schieramento avversario quindi di far muovere il grosso dell'esercito verso proprio le truppe austriache del generale mack e napoleone aveva già anticipato le intenzioni di spostamento degli austriaci già il 13 agosto pochi giorni dopo appunto la dichiarazione di guerra e quindi già sapeva che probabilmente avrebbero tentato tattiche simili a quelle precedenti fino al 23 agosto napoleone rimane fermo spera che arrivi la flotta di villeneuve e spera comunque di partire per l'inghilterra dicendo chi è rimasto in patria si difenderà ma noi intanto conquistiamo l'inghilterra il problema enorme di napoleone è che se gli eserciti come vediamo tra poco lui sa fare marciare benissimo ed è veramente un genio dal punto di vista strategico di come farli muovere ho già parlato dell'importanza del fatto di aver diviso l'esercito in corpi d'armata corpi ognuno al comando di un maresciallo quasi indipendenti tra loro e sicuramente individuali cioè in un corpo c'è tutto c'è l'artiglieria c'è la cavalleria c'è la fanteria è un corpo che può stare a sé stante purtroppo le navi che dipendono dal vento ancora in quest'epoca non si muovono nella stessa maniera e quindi alla fine il 26 agosto napoleone deve dichiarare al suo esercito lasciamo a boulogne non andiamo in inghilterra in inghilterra non c'è più oro perché gli inglesi l'hanno preso e l'hanno usato per pagare gli austriaci perché combattono contro di noi gli austriaci hanno invaso i nostri alleati bavaresi e adesso il nostro obiettivo non è più la conquista della perfida albione oltremanica ma è l'attacco al di là del reno e poi conclude questo discorso che ho un po' parafrasato dicendo andiamo a vincere i nemici che abbiamo già vinto è il giorno in cui l'armata francese viene ribattezzata la grande darmè il grande esercito ed è il primo dei dieci dei giorni che per dieci anni manterranno per cui si manterrà questo soprannome però mac aveva scelto un'ottima posizione dove aspettare i rinforzi russi aveva la selva nera davanti aveva il danubio a nord e a e a nord est e aveva la catena del giura a sud quindi praticamente poteva attestarsi in quella che sentiva una posizione praticamente perfettamente difendibile e aspettare con calma i russi che arrivassero che fra l'altro secondo lui dovevano arrivare a giorni ma come già anticipato l'altra volta non aveva fatto i conti con i calendari diversi ma ci torniamo tra poco a questo punto napoleone e iniziamo il test quindi rispondete alla domanda a tre scelte strategiche possibili a passare da sud attraversare il reno tra strasburgo e basilea bloccando i passi della selva nera e quindi raggiungere il danubio da sud b avarcare il reno più a nord a girare la selva nera attraversando il danubio molto est e quindi inserirsi a metà tra mak e kutuzov con i russi che stanno arrivando la scelta c è attraversare il reno al centro entrare in forza in baviera attaccando mak il più rapidamente possibile quindi ripetiamo a passiamo da sud e blocchiamo i passi della selva nera b passiamo da nord ci infiliamo in mezzo fra mak e i russi che stanno arrivando c attraversiamo al centro e andiamo direttamente all'attacco rispondete pure loris loris come sempre se vuoi può mettere anche qua sopra il tuo commento così te lo ricordi per le prossime volte i miei studenti avranno perché dopo lo preparo invece proprio il post sul nostro moodle dove rispondere varie domande in modo che alla fine possiamo fare più facilmente i conti e vedere chi è lo studente più brillante dal punto di vista strategico aspetto che loris scriva o che mi dica che ha scritto così che possa andare avanti e non spollero perché mai come in questo caso napoleone ha avuto ragione perfetto napoleone sceglie il piano b e una roba che in quel momento sarebbe stata assolutamente impensabile e che solo lui può immaginarsi allora praticamente com'è la situazione divide appunto in corpi la sua la grande armé che appunto sono abituati a vivere da soli e il piano è andiamo alle retrovie di mak rischiando di rimanere in mezzo fra i russi e gli austriaci in realtà in questo modo tagliamo le vie di comunicazione di mak alle sue spalle e lo blocchiamo lì perché lui non può attraversare la selva nera perché com'è impassabile per noi diventa impassabile anche per lui e in realtà la selva nera sarebbe passabile la selva nera più che essere un baluardo la selva nera è una cortina di fumo lui non si renderà conto quanta gente avrà alle spalle finché non sarà troppo tardi e manovra che ha già funzionato intendiamoci facciamo i nomi di mondo vi lodi arcole marengo ma una roba così grande non si era mai vista allora vi dreggo un po di numeri seguendo proprio il testo di zotti che scrive benissimo questa parte allora prima cosa ai soldati vi dato un benvenuto dando a entrambi due paia di scarponi e un pastrano così già gli si avvisa quello che dovranno fare avere sopportare il freddo e camminare tantissimo dal 25 agosto i sette corpi lasciano le loro basi il primo corpo i 17 mila uomini agli ordini di bernadotte vanno da annover quelli che stavano in alto no nel nord europa e puntano sul meno a wuzburg attraversano lansbach in territorio prussiano e i prussiani questa cosa se lo ricorderanno e però nel lansbach c'erano già i rifugiati bavaresi che visto arrivare gli austriaci i bavaresi sono alleati di napoleone ricordiamoci erano scappati e quindi c'erano 26 mila uomini comandati da del roi secondo corpo 20 mila franco olandesi al comando di marmon seguono una via precedente a quelli prima e vanno su magonza terzo corpo 26 mila i davu distanza ambelteuse sulla costa praticamente sul mare del nord marciano verso mannaim corpo maggiore 40 mila uomini di sulte il quarto corpo abbandona bulagna appunto è alla base dell'invasione e dirige su spira e al suo fianco marcia il sesto corpo 24 mila uomini di nei che invece andavano verso karsruhe quinto corpo lan con 18 mila uomini passano più da sud partendo dai tapl insieme ai sette uomini la guardia comandati da besseri e poi c'è murà e 22 mila cavalieri della riserva di cavalia murà il cognato di napoleone che diventerà un po il suo capo espiatorio teniamo conto che una delle fonti di questo periodo sono proprio ricordi napoleone fonti che però storicamente facciamo fatica ad accettare perché napoleone anche quando è chiaro che sbaglia napoleone scrive che non sbaglia mai da sempre la colpa a qualcun altro e quello che vediamo tra poco se ci arriviamo oggi è uno di questi casi e alla fine settimo corpo di augerò 14 mila uomini questi senza cavalleria fanno letto guardia la cavalleria non serve devono difendere linee di comunicazione sul canale sulla manica rimangono in 45 mila 30 mila bulani con brun e 15 mila in olanda agli ordini luigi bonaparte il fratello per prevenire gli inglesi che non si sa mai metti che vogliono sbarcare tutto questo movimento di uomini ok stiamo parlando 210 mila uomini coperto con la massima segretezza frontiere francesi chiuse stampa in silenzio per i fatti suoi marescialli che non sanno cosa stanno facendo gli altri e addirittura abbiamo un caso di contospionaggio nel senso che si inizia a dire in giro destinazioni assurde dei corpi che vanno in giro chissà dove e questa gente non sa neanche se gli altri stanno venendo con loro 24 settembre murà e lan in 40 con 40 mila uomini attraversano il reno a strasburgo ed entra nella selva nera per far vedere agli austrici che loro sono davanti a loro eccoci qua e nel frattempo sempre far vedere che che napoleone sta reagendo in maniera classica vi ricordate dove era l'altra grande base degli austriaci erano con l'arciduca carlo in italia ecco massena viene mandato in italia a dire tienlo impegnato fagli credere che l'italia sia importante non lo sarà minimamente l'arciduca carlo a parte qualche rara scaramuccia starà lì tutta la guerra assolutamente per nulla e il 26 settembre tutta la grande armé tranne lo specchietto per la lodole ha già attraversato il reno e gli austriaci non se ne sono accorti l'unica informazione che hanno sono i francesi sono in italia e i francesi sono dalla parte opposta della selva nera ma che inizia a sospettare forse qualcosa però non crede neanche lui a quello che sta sospettando cioè fino a quel momento lì la tria militare diceva vabbè quanto gente puoi muovere più o meno in maniera organica più o meno controllata 50.000 ecco napoleone ne sta muovendo quattro volte tante in 12 giorni duecento diecimila uomini fanno 350 chilometri in perfetta struttura organizzata e tempisticamente perfetta ma farà anche di meglio andando avanti ma non spoileriamo e poi a un certo punto avvistano le truppe sul danubio e mac dice e questi qui da dove sono usciti e soprattutto i russi quando è che arrivano adesso però mac deve decidere cosa fare ed è la foto che mi sembra di avere messo anche nella copertina poi come sapete se qualcuno mi ascolta in differita andando sul gruppo casus belli di facebook trova il post completo con tutte le foto delle singole domande in modo che si possa anche lì se volete mettere nei vostri commenti quello che avete scelto in modo che poi possiamo fare i conti alla fine mac ha quattro scelte allora scelta a sfrutto la superiorità della cavalleria con un rapido attacco e poi mi ritiro prima che i francesi possano reagire quindi attacco i francesi sono a nord amassato il danubio b mi ritiro e cerco di raggiungere la ceduca giovanni in tirolo perché c'è la ceduca carlo in italia nella pianura padana ma c'è anche quello in tirolo che sta controllando i passi e quindi potrebbe essere un rinforzo c ritardo i francesi distruggendo i ponti sul danubio in modo che li ho avvistati però non glieli faccio passare e attendo l'arrivo di kutuzov di concentro le forze a ulm in vista di una controffensiva generale quindi intanto salvo i miei uomini dentro la fortezza limitrofa e poi dopo aspetto l'arrivo dei russi quindi ribadisco a attacco colpo di cavalleria diretto poi torno indietro perché come cavalleria siamo superiori b al retro verso la ceduca giovanni in tirolo c distruggo in ponti per ritardare i francesi d andiamo tutti dentro la fortezza di ulm aspettando che arrivino i rinforzi russi aspetto che lois risponda che non lo voglio spoilerare cosa sceglie di fare mac anche se sapendo come va a finire posso anche dirlo perché tanto la storia insegnerà che non è la scelta migliore comunque sia mac ha elementi contraddittori non ancora ben chiaro quanta gente c'è davanti napoleone gli aveva chiuso comunque sia la linea da nubiana la via sono interrotte però napoleone si era trovato in un punto che dietro stava arrivando kutuzov dietro potevano arrivare gli inglesi della nover dietro poteva arrivare l'esercito britannico che cercava di entrare in francia allora su queste basi che comunque sia stanno arrivando in rinforzi mac sceglie di mettere le sue truppe 55 mila uomini dentro la fortezza di ulm gli altri sono abbandonati perché napoleone li ha tagliati fuori l'esercito francese nel frattempo si muore veloce fra il 6 e il 7 ottobre la seconda divisione del quarto corpo cattua i ponti donnaworth murat si impadonisce il ponte di munster e la città di munster scusate col ponte davanti poi il giorno 8 murat manda una divisione a prendere il ponte sul lec presso rhein e tutto il quarto corpo di sur si attesta sulla sponda sud del danubio i francesi hanno superato il danubio la scelta di ritirarsi nella fortezza ha permesso ai francesi di continuare a muoversi e di arrivare dove tutto sommato volevano e praticamente rimane solo nei dalla parte nord del danubio e praticamente nì fa da 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 perno stiamo circondando completamente la città di ulm dall'altra parte c'è la selva nera c'è nì a nord del danubio come perno e tutti gli altri che stanno pian piano scendendo a sud tagliando completamente fuori questi qui e poi c'è una retrovie pronta dal settimo corpo dei contingenti alleati a questo punto mac non poterà più dire più ignorare questi stavano tagliando di fuori stava per iniziare un assedio e non poteva sperare che i francesi se ne andassero per i fatti loro rischiava di diventare controproducente a quel punto distruggere i ponti sul danubio perché rischiava di proprio di tagliarsi fuori completamente anche perché i francesi ormai avevano conquistato certi ponti e altri gli avevano iniziati a costruire loro quindi proprio per permettere questo passaggio il più fretta possibile dalla sponda nord del danubio alla sponda sud a questo punto però anche napoleone ha un dubbio perché sa che questi russi stanno arrivando e quindi c'è il dubbio per entrambi mac che si vede i francesi che girano attorno come formiche e che dice cosa posso fare a questo punto e poi c'è napoleone che dice adesso cosa faccio per uscire la situazione prima che i russi arrivano vi do tre possibilità per mac su cui rispondere e tre possibilità poi per napoleone ok allora tre scelte per mac scelta a lanciare un deciso attacco lungo la sponda nord del danubio per sorprendere gli avversari disorganizzandoli e tentare poi una ritirata verso vienna cioè attraversato il danubio e quindi se riesco a scacciare gli avversari che sono rimasti la parte minimale posso poi rientrare verso vienna e ricongiungermi con il resto dell'esercito e con la mia capitale b iniziare una forma di resistenza più attiva individuando e colpendo i punti deboli francesi come le unità isolate dal resto dell'armata c sfuggire all'accerchiamento muovendo verso nord tagliando contemporaneamente linee comunicazione francese cioè rifacendo quello che ci hanno fatto loro quindi ribadisco a faccio un attacco diretto verso i francesi rimasti a nord e punto a vienna orientare a vienna b mantenendo urm come sede inizio attaccare le unità singole dei francesi che magari becco da sole ci esco da urm e cerco di chiudere a mia volta le linee di comunicazione dei francesi loris aspetto come sempre che tu mi dici vabbè la tua più che altro per ordine perché intanto anche gli altri possono ragionare su questa su cosa scegliere questa domanda 5.1 si chiama 5.1 perché domanda 5.2 sullo stesso foglio quindi non la chiamiamo 6 ma sono due domande sullo stesso foglio chi poi lo vedrà direttamente su file sul moodle dei miei studenti per i miei studenti o sul gruppo casus belli o anche sul mio facebook perché clicco anche sul mio facebook invece avrà davanti l'esatta pagina ricordo sempre nicola zotti che è un santo mi permette di usare il suo bellissimo lavoro su questa campagna ed ecco qui loris ha risposto quindi passiamo a chiedere le possibilità a domandare cosa può fare invece napoleone allora possibilità a abbandono di sorpresa gli austriaci e raggiungo a marcia forzata e kutuzov per dargli anticipatamente battaglia quindi tutto verso oriente sperando che appunto gli austriaci rimangano basiti da questa mia nuova da questa mia novità appunto e io vado a combattere direttamente i russi b prepararsi a affrontare il nemico austriaco in una battaglia sul fiume iller con un attacco agiante da sud quindi attacchiamo tutti insieme da sud e lo prendiamo in un certo senso appunto da un punto solo c coordino un attacco da nord e da sud contro gli austriaci approfittando dei molti attraversamenti disponibili sul danubio per mantenere stretti rapporti tra i reparti quindi ribadisco a attacco a sorpresa verso oriente per anticipare l'arrivo dei russi b facciamo una battaglia sul fiume a sud di ulm con un attacco aggirante c faccio un attacco lungo il danubio da nord e da sud lungo il danubio perché sfruttando i ponti per mantenere l'esercito unito queste sono le scelte di napoleone che aveva davanti allora intanto che aspetto che loris risponda andiamo avanti a dire cosa scelgono di fare i cosa scelgono di fare gli austriaci allora gli austriaci intanto c'hanno davanti più gente di loro e hanno questi francesi usciti quasi dal nulla inizia a mangiare voci gli inglesi stanno arrivando sono sbarcati a boulogne dovranno napoleone dovrà tornare indietro tutto falso però bastarono probabilmente per dire a mac fermati preparali a inseguirli mantiene la posizione buona non scappare e quindi gli austriaci adottano praticamente il piano b rimangono a ulm e cercano di prendere le unità un po più isolate dei dei francesi napoleone invece è convinto che gli austriaci si sarebbero preparati alla battaglia sulla riva del fiume a sud dell'iller e quindi si prepara affrontare battaglia lì quindi stabilisce ad augsburg che è a sud appunto di ulm il sud est il quartiere generale e il centro delle operazioni lì si iscrive alla guardia poi ordina a murat e a lan di puntare verso ulm lungo la riva sud del danubio agendo di concerto con nei che si trova su riva nord quindi sostanzialmente lui dice loro si aspettano il b ma noi facciamo il c e sul con largo giro attraverso l'hansberg e memmingen arriva da sud sul fianco dell'escrivimento austriaco bernadotte da v coadjuvati a dei ruoli devono invece spingersi a est proteggendo le spalle armata scusate e inviando loro invece esploratori che dicono o che ci avvisino quando sti russi arrivano che succede loris dice deve ripassare la campagna e vabbè loris questo è uno studio anche abbastanza per fortuna approfondito e insomma non è non è una roba che uno si ricorda tranquillamente comunque sia iniziano le prime battaglie serie allora giorno 8 c'è un avanguardia di truppe austria che sta andando verso rhein in controvisione di dragoni viene completamente distrutta e mac ci rimane malissimo i francesi picchiano picchiano forte e la cosa pare che lo preoccupi e che lo spinga verso una tattica molto molto più difensiva e dedita soprattutto a guadagnare tempo che poi sarà quella che effettivamente lo condanna alla fine perché perché per esempio pochi giorni dopo ed è quella situazione che vi dicevo precedentemente a me napoleone la racconta così l'impressione storica che forse abbia fatto un errore lui che stia mandando troppa gente a sud come forse vi siete accorti lasciando il nord un po sguardito napoleone la racconterà dicendo che nei il suo fidissimo maresciallo voleva che mantenere più corpi a nord del danubio e invece il cognato che perfetto dicevo prima il capo espiatorio che è il capo che deve decidere questa operazione per cui comanda la cavalleria murat invece spinge per aumentare la pressione a sud del danubio dicendo quindi praticamente solamente a davù di rimanere a nord di a nord del danubio comunque sia non sappiamo chi se gli storici se napoleone ha ragione napoleone dirà che lui avrebbe fatto diversamente ma insomma finisce che da come descrive napoleone murat impone il suo duolo quindi tutti giù un unico corpo di cinquemila uomini a nord del danubio e questo corpo si incontra con un esercito austriaco di 20 mila uomini e quindi praticamente la situazione è molto pericolosa e questo per farvi capire che gente erano questi marescialli cioè qual era la loro abilità e qual era anche il loro la loro consapevolezza cosa che gli austriaci sicuramente non dimostrano i francesi in cinquemila si trovano davanti 20 mila austriaci e attaccano e attaccano a bombardarli attaccano quasi selvaggiamente anche gli austriaci praticamente dicono oddio ma questi qui dietro chissà quant'altra gente hanno che sta arrivando aspetta un attimo controlliamo i fianchi non facciamoci prendere dal lato manda esploratori controlla difendi arriva la sera la battaglia finisce davù riesce quindi a ritirarsi ordinatamente e gli austriaci hanno avuto una fantastica occasione per dare un colpo molto importante e riaprirsi le vie e non lo sfruttano napoleone dirà che murat è stato cazziato abbondantemente per il suo comportamento un po troppo ardimentoso e non sarà la prima e non sarà l'ultima volta benissimo andiamo avanti il 14 ottobre l'imperatore corregge fa correggere la stupidaggia di murat quindi arriva bernadotte da est con una notizia fantastica i russi sono distanti 350 chilometri fossero francesi ci metterebbero 10 giorni ma i russi non non ce ne mettono meno di 20 dice bernadotte e a questo punto ragazzi l'esercito austriaco rasenta la fame non possono più demolire il ponte di elkingen presso ulm ci provano nei praticamente lo fa riparare sotto il fuoco nemico guida le truppe l'assalto della città e per questa ragione nei diventerà il più prode tra i prodi è nominato duca di elkingen si chiude si sta chiudendo il cerchio attorno a ulm l'alto comando austriaco impreda il caos mac cerca di imporre la sua autorità l'alto duca fernando che ferdinando crede anche lui pare l'opposto vuole che almeno la cavalleria scappi alla fine l'alto duca ferdinando decide di scappare lui prende la cavalleria e scappa e 6.000 cavalieri riescono a fuggire verso nord approfittando di un momento di distrazione dei francesi e mura parte con la sua cavalleria ha molto di cui farsi perdonare li cattura tutti si salva solo l'alto duca che scappa in boemia quindi anche questa mossa non brillantissima ricordo fra l'altro che in questa guerra del periodo lo vediamo già nell'epoca punica nella guerra e punica quando abbiamo visto l'altro lavoro di nicola zotti non uccide la battaglia uccide la fuga perché quello è il momento in cui ognun per sedio per tutti e gli altri se ti vengono dietro ti falcidiano o se ti va bene almeno ti catturano in questo caso gli andrì va bene 6.000 da prigionieri cavalieri non male per i francesi già che ci siamo murà fa prigionieri altri 15.000 fanti nei paraggi cattura sette generali 200 ufficiali 120 cannoni e cosa più gradita la cassa dell'armata che il buon ferdinando ha pensato di portare giustamente con sé perché facciamoci una bella fuga belli carichi e belli coperti ulm era la fame mac continuava a sperare che il vassecuto trova a salvarlo il 17 scena famosissima si propone un accordo a napoleone le truppe austriache aspettano una settimana e si arrendono a meno che non siano arrivati prima i russi l'imperatore accetta mac pensa di aver fatto una grande opera diplomatica il cibo finisce dopo tre giorni il 20 ottobre 30.000 uomini di cui 2.000 a cavallo 60 cannoni 40 bandiere cado remani napoleone i prigionieri austrici sono diventati 60.000 i caduti francesi furono solo 2.000 l'esercito austriaco in buona parte è completamente eliminato e adesso come vedremo domani sera ribadisco gli appuntamenti fondamentali di domani ore 17 montale ricopriamo quella di oggi meriggiare parido assorto ore 17.45 la terza puntata di austerlitz gloris grazie per essere con me è bellissimo averti qua con me loris lucchetti uno dei grandi della nostra associazione uno dei principali collezionisti è un uomo di grande cultura quindi mi fa molto piacere che stia stato qui con noi e spero che appunto mi confermi la tua presenza che ti piace essere qui e ringrazio per le belle parole ringrazio nicola zotti grandissimo autore di giochi grandissimo esperto militare noi stiamo usando come base per fare queste puntate il suo austerlitz che è un'opera per me strepitosa fantastica quindi ringraziamo anche nicola zotti grazie a tutti ricordo a loris ma lo so perfettamente che alle 18 e 30 inizia la trasmissione che dà il titolo alla mia che è il giannizio nero che è la trasmissione originale a cui tutto è nato in cui si parlerà di war game la trasmissione del professor mauro faina grazie ancora a chi mi ascolterà a chi mi ha ascoltato e per qualsiasi commento insulto critica eccetera andate via belli tranquilli sul sui commenti di spricka o di youtube grazie ancora e ciao a tutti con la sigla grazie a tutti